Io vorrei farvi una premessa che secondo me è abbastanza importante, l'Italia del rinascimento, l'Italia in cui vivono una dopo l'altra Isabella, Lucrezia e Caterina, è un luogo di grandi contraddizioni, perché se da una parte c'è la grande bellezza che noi tutti conosciamo con i più straordinari artisti del mondo, da Leonardo a Botticelli, se ci sono le città che sono dei musei a cielo aperto, se ci sono le corti con la loro straordinaria raffinatezza che sono state ternate da Baldassar Castiglione nel cortegiano, però dall'altra parte a fianco alla grande bellezza c'è uno stato di guerra perenne, non si sottolinea mai abbastanza spesso quanto il nostro rinascimento sia molto contraddittorio, perché da un lato c'è questa meraviglia che il mondo ricorda tutt'oggi, però dall'altro c'è un'Italia tutta divisa, voi sapete bene che al nord c'erano le signorie più la Repubblica di Venezia e i Savoia, al centro c'è lo stato pontificio, al sud c'è uno stato feudale, quindi noi dobbiamo immaginare una penisola, ora la vediamo anche meglio, che è tutta divisa, penisola ricca, bellissima, appetibile ma completamente divisa, quindi facilmente conquistabile. Questo è un dato da tenere sempre molto ben presente perché il nostro rinascimento ha una duplice lettura, non a caso Guicciardini parlava del particolare che prevale sull'interesse generale. In questo rinascimento noi abbiamo figure straordinarie in tutti i campi, ma devo dire io me ne sono interessata molto come storico, in particolare ci sono delle donne straordinarie. Tutte le donne che si affermano, diciamo le cose come stanno, sono nate al vertice perché è ovvio che all'epoca non c'era quello che noi chiamiamo l'ascensore sociale, quindi o eri completamente fuori dagli schemi, una grande pittrice come Artemisia Gentileschi o magari una cortigiana, oppure per arrivare dovevi essere già arrivato. Allora queste tre donne, cosa comuna? Isabella d'Este, Lucrezia Borgia e Caterina De Medici. Innanzitutto che sono tutte e tre, non solo donne fuori dal comune, ma sono delle donne di cultura. La cultura è un'infrastruttura immateriale che fa da collante in tutte le epoche storiche ed è, queste donne l'hanno capito molto bene, uno strumento indispensabile per affermarsi, per dominare, per governare. Tre donne quindi di cultura. Seconda cosa direi che sono tre donne completamente fuori dagli schemi. Allora io vi faccio un rapido excursus su tutte e tre e poi le riportiamo un po' a sintesi. Per motivi cronologici Isabella nasce per prima ed è la figura forse più nota del nostro rinascimento, la marchesana nasce figlia del duca di Ferrara, sposa il marchese di Mantova e in poco tempo si afferma come la prima donna d'Italia. Colta, ambiziosa, intelligente, grande mecenate e soprattutto grande politica. È lei che riesce a tenere Mantova in un gioco difficilissimo di potere perché, come vi ho detto, l'Italia era molto concupita da tutte le potenze straniere. E qui arriviamo a un anno che è abbastanza cardine nella storia del paese e che è il 1492. Perché è un anno cardine? È la morte di Lorenzo il Magnifico, quindi segna la fine di un precario equilibrio, molto precario ma con la pace di l'odio un equilibrio fra gli stati statarelli e statucci italiani c'era. È l'anno della scoperta dell'America, quindi anche se non succede subito gli equilibri slitteranno completamente dal Mediterraneo, che era il mare nostro, il centro dei commerci, degli scambi e degli incontri all'oceano. Questo naturalmente non succede in un giorno, in un anno e neanche in dieci anni ma succede. E quindi l'Italia perde di centralità. E questo è un secondo punto. Terzo punto ascende al papato Rodrigo Borgia, padre di Lucrezia, famiglia spagnola, ambiziosa, intelligente, meglio della loro fama, se no Machiavelli non avrebbe dedicato il principe, scusate non dedicato, non si sarebbe ispirato per la figura del principe a Cesare Borgia. Il principe è dedicato a Lorenzino il giovane, che non è il magnifico ma è il padre di Caterina de' Medici. Quindi tre punti seri. Poi c'è ancora un punto, in Spagna viene completata la reconquista, ovvero i due sovrani cattolici cacciano definitivamente i musulmani, gli arabi, con dei danni, devo dire, abbastanza notevoli alla fine, perché l'inquisizione si afferma e ahimè vengono mandati via dalla Spagna grandi personaggi. E poi, dopo due anni, tre anni, cominciano quelle che Machiavelli chiama le orrende guerre d'Italia. Cioè l'Italia è oggetto di continue invasioni. Cominciano i francesi con i Valois, arriveranno poi in seguito gli spagnoli e gli imperiali di Carlo V. Quindi noi abbiamo un paese bellissimo, straordinario, ricco, fascinoso, colto ma indifeso. In questo scenario queste tre donne riescono a diventare le più straordinarie. Allora dicevamo Isabella che come motto sceglie nexpe nexmetu, ovvero senza speranza e senza paura, che è un motto molto antico come idea, ed è il suo ideale per affrontare la vita. Cioè la vita va affrontata senza soverchi e illusioni, ma senza neanche paura. E Isabella d'Este riesce effettivamente, essendo anche molto ambiziosa, a diventare la figura, l'icona di riferimento del mondo femminile. La seconda è la sua cognata, perché Lucrezia Borgia diventa cognata di Isabella in terze nozze, figlia del Papa, figlia di questa famiglia di spagnoli che insomma non è che piaccia a tutti, perché i Borgia sono molto spregiudicati, sono arrivati alla tavola del potere, diciamo miracolosamente, ma sanno che il tempo è poco, sanno che devono immediatamente consolidare il loro potere. Quindi l'ambizione dei Borgia è una dinastia borgiana. Forse ci sarebbero anche arrivati il Valentino, cioè il fratello di Lucrezia, come diceva mangia l'Italia come se fosse un carciofo, foglia dopo foglia, in realtà mangia il centro, la Romagna, se avessero avuto più tempo forse si sarebbero stabilizzati come tante signorie italiane. Lucrezia, che è stata circondata da una fama negativa, è la riprova di quello che tutti noi sappiamo bene, e cioè che la storia non la scrive poi chi la fa, bensì chi sopravvive, perché non è tanto vero che la scrive chi vince, la scrive semplicemente chi ha più tempo. E quindi Lucrezia, che certamente nella prima fase della sua vita, quando abita a Roma, è una pedina nelle mani del padre e del fratello, però i primi due matrimoni sono voluti dal Papa e dal Valentino, il primo con lo sforzino, il conte di Pesaro, Giovanni Sforza, il secondo che è il grande amore di Lucrezia con Alfonso di Bisceglie ed Aragona, spinito questo secondo matrimonio tragicamente, perché Alfonso viene fatto uccidere pare su ordine del Valentino. Dopodiché però Lucrezia Borgia, che non merita minimamente la reputazione di avvelenatrice che nulla c'entra, è venuta un po' per Donizetti o per Victoria Hugo, invece è una donna di grande cultura, grande fascino sicuramente, non è una cerebrale come Isabella d'Este, è una donna innamorata dell'amore, a cui piace sicuramente piacere, noto è il grandissimo amore che c'è stato fra lei e Pietro Bembo, cioè il padre degli umanisti italiani, resta il fatto che Lucrezia nei quasi vent'anni in cui è a Ferrara come terzo matrimonio, come moglie di Alfonso d'Este, si dimostra una straordinaria donna di governo, una grande mecenate, anche lei Ludovico Ariosto la ricorda nel suo prologo all'Orlando e soprattutto è una donna di grande pietas, tant'è che diventa terziaria e addirittura porta il cilicio e ha fondato il primo monte di pietà di Ferrara per aiutare i poveri e si dimostra anche, non è politica come Isabella d'Este che era veramente un animale politico, erede perfetta degli estensi, però si dimostra un'ottima reggente in assenza del marito Alfonso quando è fuori per le guerre o per altri motivi, Lucrezia regge benissimo lo Stato e addirittura inventa un cifrario per corrispondere con il marito complicatissimo. Io avevo fatto per Reistorial una cosa proprio su Isabella Lucrezia e colpisce, mi ha colpito vedere questi cifrari, queste lettere che erano complicatissime quindi una mente non sottile non avrebbe potuto idearlo, quindi non c'è nulla di vero, la storia dell'avvelenatrice non esiste, il castone dell'anello sono come dire immagini suggestive, quello che sicuramente è vero è che nella prima fase della sua vita Lucrezia è una pedina nelle mani del Papa e del fratello a cui lei è molto legata, quindi questo rapporto implica ovviamente una serie di subordinazioni. La terza figura di cui ci occupiamo è forse la più interessante Caterina de' Medici, figlia ed erede ultima rimasta legittima della dinastia di Firenze, anche lei una pedina rimane orfana subito alla nascita, anche lei una pedina nella mano dei due papi che sono dei suoi cugini, prima c'è Leone X e poi c'è Clemente e viene, le trovano questo matrimonio straordinario con il secondo maschio del re di Francia, Francesco I di Valois, il secondo maschio è Enrico. Per una serie di coincidenze muore il primo genito, Caterina ed Enrico si trovano delfini ed eredi al trono. Ecco, Caterina de' Medici anche lei gode di pessima fama immeritatamente, è stata la più grande regina che abbia avuto la Francia, capace nel primo periodo del suo matrimonio, di arrivare e sopportare in silenzio il fatto che il marito avesse un amante di cui era molto innamorato, cioè Diane de Poitiers, ma soprattutto capace di sopportare in silenzio una corte, quella francese che la scherniva, la chiamava la banchiera fiorentina. In verità Caterina de' Medici è l'artefice del grande connubio tra l'Italia e la Francia, perché? Perché naturalmente la Francia del tempo aveva l'Italia come sogno, come punto di mira, non a caso come vi dicevo i Valois scendono tentando di conquistarla, non ci riusciranno, quello che ci riuscirà sarà Napoleone. Ma Caterina è colei che porta il rinascimento in Francia e lo fa in tutti i settori, porta come ricordavamo dalla forchetta al tovagliolo, porta i grandi artisti italiani, ma porta la moda italiana, le scarpe, i profumi, perché lì all'epoca diciamo che non sempre il tema dell'igiene era proprio curatissimo, i grandi profumieri fiorentini arrivano in Francia e poi innova la cucina. Voi pensate che tutto quello che fa la cucina francese, io sono fortemente appassionata e specializzata di Francia, però viene tutto dalla cucina italiana, poi è stato rielaborato, forse raffinato e migliorato, ma dalla zuppa di cipolle, ovvero la zuppa all'oignon che mangiamo se andiamo a Parigi, dallo zabaione, ovvero lo zabaione, dai macaron alla frittata, che adesso è l'omelette, ma era la frittata, viene tutto dalla nostra cucina, soprattutto ovviamente fiorentina, ma Caterina in realtà mescola, quindi lei per anni e anni porta l'Italia in Francia ed è molto aiutata da Francesco I, il suocero, che era innamorato dell'Italia. Quindi diciamo che se c'è un lato positivo delle guerre italo-francesi, o meglio le guerre francesi in Italia, è che i francesi scendono, gli italiani spesso salgono e si crea una corrente per cui noi esportiamo il grande rinascimento in Francia. Caterina è la signora del Made in Italy. C'è un gran finale che è assolutamente interessante perché Caterina de' Medici rimane sorprendentemente vedova, era stato previsto, pare da Nostradamus, ma come è noto le terzine di Nostradamus si capiscono dopo e non prima. Rimane vedova perché Enrico II muore in un torneo e getta finalmente la maschera. Questa signora non particolarmente avvenente, silenziosa, sì brava, colta, ma sempre basso profilo, getta la maschera e per molti anni è lei il vero potere, è lei che governa nella sostanza in nome dei figli quando sono piccoli e poi comunque nei fatti e per tutta la sua vita tenta, non dimentichiamoci che siamo già nella fase delle guerre di religione in Francia tra i cattolici e gli ugonotti, ebbene Caterina per tutta la sua vita tenta disperatamente di trovare un punto di equilibrio, lei che era veramente, se Machiavelli avesse conosciuto Caterina avrebbe dedicato a lei il principe e non al padre, di questo sono sicura il padre non era straordinario. Caterina tenta, non riesce, ci sarà anche il noto massacro della notte di San Bartolomeo, ma non pensate minimamente all'immagine molto gugnol che avevano dato per esempio nel film alla regina Margot dove lei era stupendamente interpretata da Virnalisi, ma quella Caterina non è vera perché Caterina de' Medici aveva fatto di una politica di equilibrio religioso il fulcro della sua azione e non aveva nessun interesse al massacro della notte di San Bartolomeo. Quindi in realtà le sue politiche oggettivamente non riescono subito, però quello che è il suo genero perché sposa in prima nozza la bellissima figlia di Caterina, ovvero Margot, che sarà il grande sovrano Enrico IV, quello di Parigi val bene una missa per intendersi, dopo la morte di Caterina grazie a questo editto di pacificazione riesce in quello che a Caterina non era riuscito perché i tempi non erano maturi, ma la politica di equilibrio di pacificazione religiosa che Caterina de' Medici inizia viene portata a conclusione da uno dei più grandi sovrani di Francia che è Enrico IV. Ultima cosa vi volevo dire di Caterina, voi pensate che appena lei rimane vedova porta tutti i figli e la corte in un giro di due anni e mezzo di tutta la Francia perché si rende conto che la Francia è ancora, il potere è in essere, non è ancora consolidato, il territorio francese in parte è ancora in mano agli inglesi e lei si rende conto che il re deve essere visto dai cittadini, dai sudditi, perché all'epoca non erano cittadini ancora, anche se lei usa questa parola quindi ha questa intuizione geniale, questa italiana che viene chiamata con un po' di disprezzo la Fiorentina è molto più legata alla Francia di quanto non lo siano i grandi di Francia che erano sempre pronti a prendere le armi contro la corona.